Come si può essere innovatori e responsabili? Noi ci consideriamo custodi di quelle che sono le spiagge che lo Stato a noi ci affida e abbiamo deciso di riversare a livello umano, prima che economico, proprio sul nostro territorio tramite le associazioni, tutte quelle che è stata la nostra esperienza nel mondo del lavoro e nel mondo del sociale.